Realty Income, LTC, Main Street Capital, Armor Residential, Dynex Capital, EPR Properties, Pembina Pipeline, Prospect Capital, Stellos Capital. Sapete cosa hanno in comune queste ed altre aziende che non ho citato in questa lista, oltre ovviamente al fatto che alcune di esse fanno parte del mio portafoglio personale? Hanno un dettaglio particolare che la comune, cioè che forniscono tutte un dividendo mensile. Si tratta di aziende americane o canadesi. In Europa non esiste un'azienda da dividendo mensile. Oppure sì, te lo dico in questo video, ma subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto. Se si dovesse creare un portafoglio da dividendi mensili, al di là ovviamente di alcuni ETF che sono di tipo obbligazionario, qui in Europa le scelte per il mondo dell'equities sarebbero pari a zero. Cioè, a parte le classiche strategie, cioè quelle di creare un portafoglio di aziende da dividendo, facendo in modo di cadenzare questi dividendi, questa distribuzione, in modo che ogni mese ci venga erogato un flusso di cassa. Però non tutti sanno che guardando il nostro vicinato ci sono delle realtà, sul suolo europeo eh, che distribuiscono dei dividendi su base mensile. Devo precisare che non tutte sono tradabili da noi, poveri, mortali, del mondo retail, ma alcune sì. E per cui voglio portare alla tua attenzione dell'esistenza di alcune di queste aziende che pagano appunto un dividendo mensile e che provengono tutte dalla stessa nazione, il Regno Unito. Sempre loro, no? Come sempre ricordo che questi non sono assolutamente dei consigli finanziari, ma delle mie valutazioni personali per quello che potrebbero essere aziende che secondo me, a mio parere, si potrebbero incastrare, si incasterebbero bene nel mio portafoglio, che appunto è un portafoglio solo da dividendi. Non è detto che tutti abbiano le stesse esigenze che io ho, ed in ogni caso, essendo spunti di riflessione, poi ognuno deve andare a fare i propri approfondimenti per capire tutte queste cose. Però adesso basta cianciare e andiamo al PC che le guardiamo insieme. Ed eccoci qui a parlare di queste aziende che vanno a fornire un dividendo mensile in euro, come dicevo prima nel Regno Unito. Come dicevo, ma ci tengo a ripontualizzare, qui parliamo solo di termini azionari, perché in realtà nel Regno Unito ci sono altri fondi closed and founds o comunque delle tipologie di fondi di tipo obbligazionario che danno un dividendo mensile e per cui magari se siete interessati anche a quell'asset fatemelo sapere nei commenti qui sotto che ci farò un video apposito. Partiamo dalla prima azienda che è BMO Commercial Property Task. Come dice appunto qui Simpio Vostritto, è un'azienda che si occupa di guadagnare un'esposizione al mercato primario commerciale nel Regno Unito. Un'azienda che fornisce un 3,91% di dividendo anno diviso, come dicevo prima, su base mensile. Andiamo sul loro sito ufficiale, sono andato a estrarre un attimino quello che è la diversificazione in termini di settore e anche geografico nel Regno Unito per il BMO. Vediamo che il 32% sono uffici, quasi un 16% retail, quasi un 11% retail, warehouse, cui magazzini, un 30,5% industriale e poi un 10,6% alternativo. Per quanto riguarda una diversificazione geografica abbiamo Londra West End un 25%, South End 24%, le Midlands un 21,5%, Scozia quasi un 12%, Northwest perché tutta l'area che va a prendere Manchester, Liverpool, quella zona lì un 13,5%, Southwest un 2,5% e poi il resto di Londra, tutte le aree diciamo suburbane, 1,5%. Da sito dell'azienda si vede che quello che l'azienda cerca di fare appunto è essere un veicolo commerciale per gli investitori che vogliono guadagnare un'esposizione vera e propria a mercato delle proprietà commerciali nel Regno Unito. L'azienda fa parte del FTSE Index e quindi cerca di dare ai propri investitori la possibilità di avere un ritorno attrattivo sia dal punto di vista del capital gain ma anche di costruire un income growth portafoglio appunto con questo dividendo che è quasi un 4% come abbiamo visto prima e viene pagato su base mensile. Come possiamo vedere qui questo trust è stato eletto, gli è stata data la possibilità di essere aggiunta al regime di RIT il 3 giugno del 2019 per cui abbiamo un credit di RIT con pagamento mensile anche in Europa. Avete visto? E non solo perché non è l'unico, ne troviamo un altro, ne troviamo un altro che si chiama Eddystone Property Investment che è appunto un real estate investment trust per cui un RIT e fa parte di quella macro area che viene chiamata external manager per cui ha una gestione diversa a un dividendo del 6,38 per cento, ricordo anche questo caso su base mensile e con singola tassazione e in questo caso anche la classica posizione finanziaria per i RIT con tanti assets a lungo termine, poco a breve termine e non l'ho fatto vedere la copertura del dividendo è un 59 per cento. Questo è il sito dell'azienda, anche questo RIT che pur essendo diversificato un po' di più dell'altro di BMO è comunque indirizzato verso il mercato commerciale ed eccoci qui sul loro sito dove vediamo le 14 proprietà, loro mettono all'inizio le prime 10 quelle più importanti ma in realtà 11 sono retail warehouse per cui sono tutti quei parchi commerciali con tanti negozi, sono molto diffusi nel Regno Unito, qui in Italia un po' meno ma comunque anche in Irlanda sono diffusissimi, sono delle aree che non sono centi commerciali ma hanno queste enormi aree di parcheggio con tanti negozi costruiti intorno, li chiamano retail warehouse, poi abbiamo leisure per cui sono delle aree sempre commerciali ma magari vengono accompagnate da alcune proprietà di divertimenti come possono essere cinema, sale giochi e così via, infine c'è anche una proprietà relativa agli uffici che si trova a Birmingham, anche questa azienda molto interessante da approfondire a mio parere. Passiamo all'ultima azienda di questo lotto i3i che sta per i3 energy che è un'azienda quotata appunto che è impegnata nello sviluppo, la produzione di petrolio e gas o comunque qualsiasi asset che è legato al gas nel Regno Unito e in Canada per cui estraggono e producono in zone del Regno Unito e il Canada. Vedete quanto ha reso quest'anno ovviamente tutto quello che è stata la questione inflattiva e quella della crisi ucranina ha aiutato tantissimo, comunque un'azienda molto interessante con un dividendo del 5,94% su base mensile, non si occupa di immobiliare serenamente per i miei video ma si occupa di estrazione. Salute finanziaria che sembra quasi quella di un bit però come si può vedere ovviamente è un'azienda di tipo diverso e si può anche constatare su come debiti equitirezio vanno a muoversi nel tempo. Diciamo che comunque l'azienda ha una bella salute finanziaria e il suo dividendo attualmente è molto coperto, è una copertura che si dovrebbe agire intorno al 36%. Comunque questo è quello che fanno, vanno a fare estrazione sia su piattaforme terrestri che su piattaforme marine, petrolio e gas. È un'azienda quotata a Lime inglese ma anche al TSX che sarebbe il Toronto Stocks Exchange sempre nell'area delle aziende a bassa capitalizzazione. Qui possiamo anche vedere una piccola presentazione dell'azienda che va un po' a spiegare quello che l'azienda fa, quali sono i numeri e quali sono le unità produttive. Poi dicono che hanno 467 pozzi di produzione, quindi sono pozzi estrattivi che sono per la maggior parte presenti nel nord del Regno Unito ma anche nella zona di Alberta in Canada e questo lo possiamo vedere se non ricordo male qui esatto. Per cui è un'azienda che va a estrarre petrolio e gas principalmente in queste due aree e ha appunto degli investimenti da questo punto di vista che in questo periodo ovviamente vanno a rendere un pochino di più proprio per la questione che si è andata a creare sia per quanto riguarda la situazione inflattiva ma anche per quella che sono le tensioni internazionali al momento. Ovviamente come dicevo non ho presentato nessuna azienda che offrisse dividendomensile per una gestione obbligazionaria ma ce ne sono tante che non sono appunto ETF, sono proprio aziende, sono dei closed end funds come tantissime altre ce ne sono nel settore che però danno anche un dividendo mensile. Se siete interessate anche a queste aziende per favore fatemelo sapere e ci faccio un video apposito. Adesso andiamo a ritornare alla mia brutta faccia per le conclusioni di questo video. Però di aver stupito qualcuno con questo video considerando che le aziende sono basate in UK e non tutti sanno dell'esistenza di dividendi mensili in Europa e che i dividendi in questo caso non mandano in conto la doppia tassazione cosa che fa sempre goal a noi. Ovviamente come dicevo prima sono spunti di riflessione da approfondire con estrema attenzione. Non si tratta ovviamente di mega cap e non si tratta di aziende iper liquide per cui potrebbero essere problematiche da gestire ma potrebbero comunque far parte di un portafoglio estremamente e ben diversificato. Spero che questo video sia stato di tuo gradimento e ti chiedo se così fosse di farmelo capire ma anche di farlo capire a YouTube in un modo molto semplice cioè lasciando un bel pollice in su così che l'algoritmo possa notare che io sono qui in zona. Inoltre se sei nuovo sul canale e non vuoi perderti nessuno dei miei contenuti successivi le due cose semplici che tu puoi fare veramente richiedono pochissimo tempo lo stesso tempo di lasciare un bel pollice in su è quello di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non debba perderti nessun contenuto successivo. Noi come sempre ci vediamo domani con un nuovo video e anche per oggi tutti ti saluto. Ciao!